Come dire, sarebbe banale parlare di pace o di giustizia, però non si può non pensare a ciò che sta avvenendo in Palestina e quindi per chi crede, chi non crede, l'augurio è che si risolva in quella direzione. Difficile stare celebrando quando sabemos che hai tanta difficoltà in altre parti del mondo, ma fare le migliori possibili per noi, per noi, amici, famiglia. Mi deseo è avere un perro. Pace, serenità, benessere, amore per tutti. E un po' di più di tolerenza anche. Grazie. 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 Grazie.